Quanto siamo responsabili? Quanto è grande? Quanto è la nostra responsabilità? Io vorrei spiegare, quando proviamo a parlare, a dire qualcosa di Cristo Consciousness, se altre persone si fanno angrile, si fanno negativi, e si fanno una brutta reputazione per il movimento, per il Master spirituale, come è la nostra responsabilità, se puoi parlare di questo? Io ho anche una domanda, anche io ho una domanda, dove è Purnima? Purnima ha un giorno più di lavoro, e è in Giarikanda, lavorando, per esempio, per esempio, Purnima, mio amico. E lei era assicurata, ma il Guru Maharaj l'ha chiesto per me, sì, ora posso dire... Ah, è stricchio! No, no! I devoti non rendono gli altri preoccupati, non preoccupano gli altri, vogliono rendere tutti gli altri felici. Qualche volta non hanno tanta esperienza, e dicono qualcosa che l'altra persona può non capire. Ah, e l'altra persona può dire, ah, te mi butti giù, mi consideri male. E questo può succedere per combinazione. Però quando i devoti vedono che le altre persone non sono felici, allora i devoti dovrebbero cambiare atteggiamento. E gli dovrebbero dire, dai, vieni a prendere un pochino di prasata. E non vi preoccupate che quando c'è il prasata di mezzo tutte le differenze filosofiche si appianano. Anche se qualcuno è impersonalista, crede in Dio con la forma o senza forma. E qualche devoto usa dire, cioè di solito dice. E qualcuno dice, senza il doti non ci sono i devoti. E allora lo dice a qualcuno che non c'è il doti. E quello che non c'è il doti, insomma, è un povero. Però sappiate che i Vaishnavas hanno anche dello humor, nel senso dell'umorismo. E qualche volta va bene anche scherzare un po'. Però non rendete la gente, non fate preoccupare le persone. Allora, le regole e i regolamenti sono per insegnare alle persone ad amare, non per stroncare la gente. Io ho un'interessante osservazione. Io ho una mentalità di predica abbastanza forte. Per esempio, se parlo del consumo di carne. Io dico, fermatelo. Però capisco che non è il massimo. Perché? Perché l'ho capito? Perché che mi è successo? Perché? Perché ho capito che perché anche se noi predichiamo così tanto a proposito di questa faccenda del mangiare carne, intorno al mondo, in ogni caso, considerando tutto il mondo, ogni anno il consumo di carne incrementa, sale. E quindi sono stato veramente infelice di questa cosa. E allora ho sentito un uomo che diceva, se dici, smettete di mangiare carne, tutti quelli che mangiano carne, loro si chiudono le orecchie. Ti ascoltano solo i vegetariani. Perché questi sono già vegetariani. e gli piace sentirlo. Ma quelli che ancora non hanno deciso di essere vegetariani, praticamente distolgono l'attenzione. Quindi ho realizzato che invece di dire, smettete di mangiare carne, io devo dire, cari fratelli, per la salvezza della nostra mamma, della nostra madre, per favore, potete per favore ridurre il vostro consumo di carne, così questi non si sentono rifiutati, e si sentono inclusi, e pensano, anche io posso partecipare, attraverso la riduzione. E quindi il Guru Maharaji dice, l'ho imparato, ho imparato questo. Anche Prabhupada usava dire in questo modo. E arrivava qualcuno e gli diceva, io non posso smettere di fumare. E Prabhupada gli diceva, ok, fuma solamente una sigaretta al giorno. Però fuori dal tempio, non dentro. E si vedeva qualcuno che diceva, ragazzi vado fuori a fumare la mia sigaretta giornaliera. Dopo un paio di settimane, basta a fumare. Quindi è meglio dire, riduci, riducete. In modo da includere tutti. E un'altra cosa che mi viene di dire, nel mio lavoro a favore di Madre Natura, io trovo un sacco di forti combattenti per Madre Natura. Ma molti di loro non sono vegetariani. Perché, per esempio, i popoli nativi, i tribali, insomma, vengono da tradizioni di cacciatori. E quando gli parlo delle industrie, degli animali, no, degli allevamenti industriali di animali. Se gli parlo dei fiumi che vengono contaminati dai materiali che vengono dai macelli, dai matatoi, loro si arrabbiano. E dicono, no, no, questo non può essere fatto. Ma nella loro vita, ma comunque nella loro vita non ce la fanno ad essere perfetti vegetariani. Loro in emergenza uccidono quando non c'è altro da mangiare. Loro praticamente chiedono scusa all'animale. E questa è una pratica generalizzata. di tutti gli indigeni non sono vegetariani. Quindi io lavoro insieme con loro. Però quando mi incontro con loro, i devoti fanno la cucina. Cucinano i devoti. Quando si incontra con loro la cucina fanno i devoti. E allora danno il prasada a tutti quanti. E sono tanto felici. A loro piace il prasada. E qualcuno di loro diventa pure vegetariano. Come per esempio. Quindi io ho imparato questa lezione. Non va bene essere pesanti quando predichi. Devi essere gentili. Riduci. Grazie a voi per aver ascoltato e per avermi dato la possibilità di parlare di qualcosa.